Nello scorso video abbiamo iniziato ad effettuare dei esercizi svolti sulla scomposizione Adesso ne vediamo in realtà due Allora supponiamo di avere 3A più 3B Ovviamente questo è per consolidare tutti i concetti che abbiamo visto in teoria Più A al quadrato più AB Allora in questo caso cosa abbiamo? Beh abbiamo un quadrinomio Come al solito bisogna verificare sempre se è possibile effettuare il raccoglimento totale Beh in questo caso non è possibile Perché come coefficiente abbiamo 3, 3, 1 e 1 E non c'è nessun elemento in comune tra questi quattro valori Come lettera abbiamo A da una parte e B dall'altra Quindi ovviamente non possiamo effettuare questo raccoglimento totale Però visto che il numero di elementi è pari È possibile effettuare un raccoglimento parziale Vediamo se ci porta a qualcosa Ovviamente qui è possibile farlo a 2 a 2 Però le scelte sono tante Perché è possibile effettuare un raccoglimento parziale tra questi due e questi due Perché ovviamente qui abbiamo in comune il 3 Oppure tra questi due e questi due In generale conviene effettuare un raccoglimento parziale che coinvolge le lettere Cioè che coinvolge diciamo la parte letterale e non i numeri Ovviamente qui dovete andare a tentativi Infatti diciamo che una scomodizione parziale ha avuto senso se le parentesi che vi vengono fuori sono uguali Come abbiamo visto in teoria Proviamo a mettere in evidenza 3a con a al quadrato e 3b con ab Vediamo che succede Tra 3a e a al quadrato mettiamo in evidenza ovviamente la a 3a diviso a fa 3 A al quadrato diviso a vi viene più a Poi più mettiamo in evidenza tra 3b e ab Mettiamo in evidenza b e qui abbiamo 3 più a Perché ovviamente 3b diviso b fa 3 Ab diviso b fa a Ovviamente come potete vedere queste due parentesi sono uguali Quindi la mettiamo in evidenza Quindi abbiamo 3 più a che moltiplica Qui abbiamo soltanto i coefficienti che stanno davanti alla parentesi Quindi a più b E come vedete questa scomodizione è andata a buon fine In quanto abbiamo dei polinomi, dei binomi in questo caso tutti di primo grado Quindi questa era la scomodizione da effettuare Vediamo adesso un secondo esercizio Supponiamo di avere a al cubo meno 1 Allora qui che cosa succede? Beh in realtà questo è diciamo Un esercizio abbastanza banale Però vi voglio far ragionare Su delle cose Intanto il raccoglimento totale Non si può fare Perché ovviamente non abbiamo nulla in comune Tra A al cubo e meno 1 Il raccoglimento parziale è la stessa cosa Non si può fare Procediamo oltre Abbiamo un binomio Quindi potrebbe essere Somma e differenza di potenze pari Oppure Somma e differenza di potenze dispari Dobbiamo poi applicare Se non riusciamo a scomporlo Ruffini Però Ruffini è l'ultima spiaggia Intanto non è una somma e differenza di potenze pari Perché qui abbiamo un cubo Potrebbe essere Somma e differenza di potenze dispari Infatti questo in realtà rappresenta la differenza tra due cubi Infatti A al cubo è diciamo A come base A Perché è il cubo di A E poi 1 A come base 1 Infatti se ne facciamo 1 al cubo ci viene 1 Quindi che significa? Che questo è uguale a A meno 1 Che mantiene diciamo lo stesso segno In quanto è così la regola Se andate a riguardare E poi come finto doppio prodotto Come finto doppio prodotto abbiamo il segno opposto Quindi il segno più Quindi qui abbiamo A al quadrato Più che cosa? Più A Più A Più diciamo 1 Perché qui abbiamo ovviamente il finto quadrato di binomio Che dovrebbe essere A al quadrato Più 2 A Più 1 Però il doppio prodotto è finto Quindi il 2 non c'è Quindi questa è diciamo la nostra scomposizione Ovviamente questo è un trinomio di secondo grado Quindi si potrebbe diciamo procedere con la scomposizione ulteriore Però non è oggetto di questa lezione La cosa importante è come al solito Utilizzare la tabella di epilo che abbiamo visto nei video precedenti Per riuscire a scomporre un qualsiasi polinomio Quindi si ragiona sempre su un numero di elementi Che ha il polinomio di partenza Con questo video abbiamo terminato Come al solito se il video è piaciuto Metti un mi piace, commenta, condividi E ci vediamo al prossimo video